Ammonta oltre 3 miliardi di euro la manovra finanziaria approvata dal Parlamentino Lucano. Per il 2012 il limite massimo di indebitamento sarà di circa 104 milioni di euro, di cui 62,3% relativa agli impegni assunti nel precedente esercizio finanziario, 14% per la quota a carico della Regione per gli investimenti in sanità e 17,5% per altri investimenti. Ma vediamo come è stata suddivisa la ripartizione dei fondi. 42 milioni di euro per la prevenzione ambientale, 24 milioni per le politiche sociali regionali, 33 milioni di euro per la politica agricola, 135 per la gestione dei servizi di trasporto, 18 milioni per i fondi dell'imprenditoria, 25 per l'istruzione e la formazione professionale, 10 per l'università, 12 per innovazione e trasferimento tecnologico, 7,5 per l'alluvione di marzo, 24 per la protezione ambientale, 144 per la politica di tutela e gestione integrata delle risorse idriche e 56 per lo sviluppo e la sicurezza della rete di trasporto stradale e ferroviaria. Il finanziamento complessivo per le politiche sanitarie è pari a 1 miliardo e 118 milioni di euro. Le spese per il funzionamento di ente ed organismi della Regione ammontano a 28,7 milioni di euro. Stanziati poi per il programma operativo Valdagri circa 25 milioni di euro, mentre 9 milioni saranno utilizzati per il programma speciale per il senisese. Agli stanziamenti ordinari vanno ad aggiungersi i fondi della programmazione comunitaria 2007-2013, per i programmi finanziati dal FESR sono previsti 461 milioni di euro, mentre per quelli finanziati dall'FSE lo stanziamento è di 105 milioni di euro.